al cab polidiagnostico di barzanò da ottobre finalmente attivo il nuovo reparto di radiologia salute prevenzione diagnosi cura con la nuova apertura di merate raddoppia la presenza sul territorio cab barzanò via 4 novembre 26 e cab merate via bergamo 60 per conoscere i nostri ambiti medici www.analisi barzano.it la tessitura dove il cibo e cultura vi aspettiamo a merate in via collegio manzoni 8f telefono 039 905 22 64 stil casa gioielli e articoli da regalo nel centro storico di merate il vostro punto di riferimento da oltre 40 anni farmacia san francesco omeopatia fitoterapia e dermocosmesi a merate in via statale 107 aperti anche la domenica mattina ben ritrovati all'appuntamento con sette brianza settimanale di tele unica dedicato alla brianza lecchese in apertura il caso della sospensione del primario di ginecologia dell'ospedale mandic di merate gregorio del bocca sentiamo l'ospedale mandic di merate di nuovo sotto i riflettori della cronaca dopo il caso di francesco scorzelli il capo sala allontanato per tre mesi il primario di ginecologia gregorio del bocca è stato sospeso per due mesi e per 15 giorni l'ex direttore sanitario gedeone baraldo i provvedimenti sono stati presi dalla commissione disciplinare della sst lecco trattandosi di questioni di quest'ambito le notizie sono ufficiose stando a quanto circolato del bocca avrebbe utilizzato in modo inappropriato sale operatori del mandic in buona sostanza facendo passare per emergenze quelle che emergenze non erano cosa che all'atto pratico comporta costi aggiuntivi per personale e strutture non si tratterebbe poi di episodi isolati ma di una sorta di prassi consolidata testimoniata da diverse segnalazioni giunte all'azienda ospedaliera e non solo nel corso degli anni per esaminare il caso di del bocca considerata la delicatezza della vicenda la commissione disciplinare si è avvalsa di consulenti esterni il verdetto è stato senza precedenti due mesi di sospensione al primario e 15 giorni all'ex direttore sanitario presumibilmente per aver avvalorato questo modus operandi la vicenda sta facendo discutere e non poco il sindaco di merate andrea massironi e il collega di casatenovo filippo galbiati con una lettera hanno espresso preoccupazione per il clima di tensione che si è venuto a creare all'interno del mandic e nel territorio come detto la sospensione di del bocca segue quella di francesco scorzelli caposala del pronto soccorso allontanato per tre mesi a seguito della vicenda dai bonus pagati e colleghi infermieri richiamati in turno per coprire buchi nel servizio e l'assessore giulio gallera rassicura la popolazione in particolare le donne sul proseguo dell'attività del reparto di ostetricia all'ospedale mandic di merate e più in generale sul futuro del polo ospedaliero brianzolo la sospensione del primario gregorio del bocca non mette a rischio l'attività del reparto di ginecologia dell'ospedale mandic né tanto meno è il preludio a uno smantellamento del polo sanitario di merate è l'assessore regionale al welfare giulio gallera a rassicurare la popolazione in particolare quella femminile oltre al personale del mandic dopo la sospensione del primario di ginecologia al quale il comitato disciplinare della sst lecco contesta l'utilizzo di sale operatorie per emergenze che emergenze non erano i timori ha dichiarato gallera circa l'eventualità di interruzione dell'attività di ostetricia e ginecologia sono del tutto infondati l'attività del reparto proseguirà regolarmente siamo ben consapevoli ha poi spiegato il titolare regionale della sanità dell'importanza del presidio di merate lo abbiamo dimostrato con i fatti abbiamo di recente approvato la copertura di tutti i primariati vacanti ed è in corso la pubblicazione del bando per il primariato di neurologia è già stata bandita la gara per l'ampliamento del pronto soccorso è l'incremento dei livelli di sicurezza con investimento di circa 950.000 euro un finanziamento di 1.294.000 euro stato poi destinato all'adeguamento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento del presidio e la ristrutturazione del laboratorio analisi chimico e clinico e di medicina riabilitativa in seguito alla sospensione di Gregorio del Bocca il consigliere regionale del PD Raffaele Straniero ha però annunciato un'interrogazione urgente e si registra anche una presa di posizione a sostegno del primario da parte del segretario provinciale della Lega Nord Flavio Nogara in merito alla vicenda il direttore generale della SST Lecco Stefano Manfredi puntualizza nella pubblica amministrazione la verifica di presunte irregolarità comportamentali obbligatoria in quanto rispondente ai principi costituzionali di buon andamento di legittimità dell'azione amministrativa in caso di segnalazione, conclude Manfredi l'azienda non può esimersi dal far intervenire gli uffici competenti che sono tenuti a valutare in autonomia i provvedimenti conseguenti restiamo in tema si è tenuto questa settimana l'ospedale Manzoni di Lecco un presidio a sostegno di Francesco Scorzelli il caposala del mandic di Merate che è stato sospeso tre mesi per le conseguenze di un gesto particolare ovvero quello di aver pagato di tasca propria i bonus ai colleghi rientrati in turno lo difenderemo con la lotta Francesco Scorzelli non si tocca presidio del sindacato OSB all'azienda ospedaliera di Lecco in sostegno di Francesco Scorzelli il caposala del pronto soccorso dell'ospedale Mandic che lo scorso inverno, lo ricordiamo aveva pagato di tasca propria un bonus agli infermieri che erano rientrati in servizio per coprire buchi di turno intanto diamo la solidarietà come lavoratori, come dipendenti e come iscritti al sindacato a Francesco Scorzelli perché il caso che si è verificato in questione è un caso gravissimo per quanto ci riguarda qui Francesco Scorzelli addirittura rischia il licenziamento per aver dato, non lui ma altre persone informazione alla stampa di questa regalia di schede telefoniche a sostegno di quegli infermieri che per buon senso hanno saltato il turno di riposo questi turni di riposo dovevano essere retribuiti dall'azienda ospedaliera la quale ha prima promesso di pagare il salto di riposo ma poi non lo ha fatto e quindi Francesco per scusarsi di averli richiamati in servizio ha fatto un regalo personale a loro una piccola ricarica telefonica oggi eravamo in tanti qui c'è stata anche una manifestazione e ci auguriamo che Francesco non venga inflitta un'altra sanzione disciplinare che è il licenziamento come sindacato abbiamo pensato qualora ci fosse un'ulteriore condanna di Francesco Scorzelli di dichiarare sciopero all'interno dell'azienda ospedaliera di Lecco naturalmente facendo tutti i passi partendo innanzitutto dalla prefettura e portando il caso anche in regione perché secondo noi non solo ai colleghi del pronto soccorso vanno pagati gli straordinari e quindi le prestazioni aggiuntive saltando i riposi ma tutti i dipendenti dell'azienda ospedaliera di Lecco che in questi mesi hanno saltato riposi per coprire carenze strutturali infermieristiche ci auguriamo che il verdetto sia positivo che Francesco sia scagionato e che possa continuare a fare il suo lavoro visto che lo fa molto bene ed è molto amato dai suoi colleghi vista anche la presenza oggi di lavoratori che sono accorsi in solidarietà Francesco Scorselli ha regalato un defibrillatore con i suoi soldi rinunciando al premio di produttività perché altri suoi colleghi che lavorano nello stesso reparto non lo avevano preso ecco questo è Francesco Scorselli questa è la sua figura ed è per questo che è molto seguito e amato dai suoi colleghi Cambiamo argomento restiamo merate il comitato Viale Verdi che da tempo si batte per la riqualificazione del quartiere esulta per la scelta di affidare la progettazione del nuovo viale alla provincia di Lecco sentiamo l'importante svolta per il progetto di riqualificazione di Viale Verdi a Merate è promosso dall'omonimo comitato civico di questi giorni infatti la formalizzazione dell'incarico all'ufficio tecnico della provincia della progettazione dello studio di fattibilità e poi della progettazione definitiva ed esecutiva del progetto di riqualificazione su Viale Verdi questo è stato possibile perché alle spalle del progetto vi è seppure sulla carta il valore di Cascina Galli che permette quindi di attuare una progettazione e di sapere finalmente come si suol dire di che morte e morire cioè quali sono i veri valori della riqualificazione perché finora si sono come si dice sparate cifre ad capocchiam cioè si parla di un milione di un milione e mezzo di due milioni due milioni e mezzo finché non avremo il progetto definitivo ed esecutivo non sapremo quanto costa e solo in quel caso potremo dire se Cascina Galli basta o se non basta dove trovare poi i mezzi per effettuare finalmente la riqualificazione di Viale Verdi da persone tranquille quali siamo sempre stati non abbiamo chiesto di far diventare Viale Verdi Las Vegas ma soltanto di attuare sul viale una riqualificazione che permetta innanzitutto la sicurezza dei pedoni che permetta una mobilità lenta e fluida quindi che eviti le code che ci intossicano quotidianamente e che dia a Viale Verdi l'aspetto di un viale con degli spazi di socialità dove attuare le iniziative che abitualmente facciamo a questo proposito cosa avete in programma nelle prossime settimane intanto in questo spazio dove ci troviamo che abitualmente viene utilizzato per altri scopi meno nobili dall'8 dicembre si accenderà per il secondo anno l'albero del vicinato quindi un grande abete illuminato grazie alla collaborazione con il comune che patrocina l'iniziativa metteremo la casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno portare la classica letterina e portare dei giochi da donare poi a bambini più bisognosi in più è già il secondo anno che il comitato Viale Verdi in collaborazione con Coder Dojo Merate propone la programmazione giocando cioè un percorso di educazione informatica ai bambini che gli permette di apprendere il pensiero computazionale quindi programmare dei videogiochi ed educare inoltre nel frattempo le famiglie ad un utilizzo consapevole del web il progetto è un progetto molto importante che forse viene sottovalutato perché visto gli spazi che attualmente abbiamo a disposizione in collaborazione con la biblioteca civica possiamo raccogliere un massimo di 20 ragazzi di 20 ragazzi per volta quando si aprono le prenotazioni vanno sold out immediatamente per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne due sono le iniziative in programma nella Brianza Lecchese domani sabato 25 novembre a Merate alle 11 un lungo telo rosso collegherà Piazza Primetti a Piazza degli Eroi l'iniziativa rientra nell'ambito della mostra d'arte promossa questa settimana a Villa Confalonieri a sostegno del fondo Zanetti e dell'associazione l'altra metà del cielo a Osnago alle 15 invece l'amministrazione inaugurerà una panchina rossa nei pressi della biblioteca del paese la panchina donata dall'associazione progetto Osnago sarà dedicata a Franca Viola prima donna a rifiutare nel 1965 il matrimonio riparatore cambiamo argomento e passiamo allo sport il football americano è arrivato in Brianza grazie ai Commandos che proprio la scorsa settimana hanno giocato al centro sportivo del Bione di Lecco contro una squadra di Rovigo vediamo sotto resegone nel campo da rugby oggi si gioca a football americano Andrea Rusconi presidente dei Commandos Brianza innanzitutto perché giocare a questo sport non molto diffuso in Italia beh perché il football americano è lo sport più bello del mondo uno sport che insegna il rispetto la grinta la determinazione i sani valori che ogni persona dovrebbe avere e oggi siamo qui nel bellissimo centro del Bione per una partita davvero spettacolare con gli Alligators di Rovigo qual è la vostra storia? beh la storia un po' di ogni ragazzo che sogna un po' di realizzare quello che magari a tratti può essere l'irrealizzabile quindi dopo aver visto il Super Bowl che è la più grande partita americana non la finale da lì il desiderio di portare qui all'Ecole Football e da due anni stiamo sviluppando il nostro progetto sportivo come Commandos Brianza come sta andando? sta andando molto bene l'anno scorso siamo riusciti a vincere il titolo Five Men e quest'anno abbiamo fatto quel salto importante che avevamo bisogno di fare e quindi siamo passati a 7 grazie al campionato organizzato dal CSI con cui stiamo collaborando e quindi continueremo adesso a 7 e poi in primavera vi aspettiamo anche per il Five Men il Futuro Americano è uno sport bellissimo insegna tantissimo educativo e poi è bello perché è un vero e proprio sport di squadra non può essere il fenomeno che prende la palla e fresegna lui solo se tutti lavorano insieme si ottiene risultato qual è la vera differenza con il rugby? in realtà sono completamente diversi sono simili quanto il calcio e la palla nuota nei tambi devi buttare una palla nella rete però finita le somiglianze anche il pallone stesso che è ovale in tutti i due sport è completamente diverso e le somiglianze non ci sono il Futuro Americano nasce dal rugby ma nel 1800 e da lì si è sviluppato e ha una cosa in più che è il lancio in avanti che è spettacolare ed è esaltante ed è una cosa bellissima il campionato nazionale impone molte trasferte voi oggi siete a Reco eravate a Alessandria come può una squadra di direttanti far fronte a tutte queste sfide? beh è difficile ma ci vuole tanta passione e poi si autotassa cioè i ragazzi devono darmi devono pagare una quota annuale e poi anche solo oggi per venire per il Pullman non mi hanno pagato il biglietto vi aspettiamo ogni mercoledì sera alle 20.30 a Bevera quindi via Santuario Inferiore vi aspettiamo noi ci alleniamo in questo centro e da lì stiamo sviluppando tutto il nostro progetto quindi vi aspettiamo e poi seguiteci sui nostri canali social quindi la nostra pagina Facebook Comandos Brianza canale Instagram e sul nostro sito nella seconda parte di Settebrianza di questa settimana abbiamo il piacere di ospitare Michelangelo Morganti un ornitologo lecchese che si sta occupando di diversi studi sul nostro territorio in particolare sulle zone umide e dunque anche nell'area della Brianza Meratese buonasera innanzitutto buonasera ecco in particolare di che cosa si sta occupando lei? ma io mi sto occupando di monitorare la vifauna principalmente di interesse conservazionistico cioè protetta a livello europeo nelle zone umide del nostro territorio quindi dal lago di Sartirana di Merate la palude di Brivio l'area del Toffo fino al pian di Spagna ecco in questo studio che cosa si propone qual è lo scopo e soprattutto di che cosa cosa stai monitorando in particolare? è parte di uno studio molto più ampio di un progetto LIFE finanziato da Regione Lombardia e dall'Unione Europea in cui come Università di Pavia lavoriamo con la LIPU e stiamo cercando di capire lo status delle popolazioni degli uccelli in interesse conservazionistico quindi terabusino moretta tabaccata poi se volete parliamo più delle specie e capire come stanno e quali interventi possiamo fare per migliorare le loro popolazioni il loro status di conservazione e questo LIFE prevede una seconda fase in cui gli interventi che proporremo verranno realizzati per migliorare gli habitat e gli ambienti per queste specie ecco in generale quando pensiamo alla Brianza ricchese da un punto di vista ambientale pensiamo sia degli splendidi paesaggi ma anche dei problemi uno su tutti l'inquinamento da polveri sottili sappiamo che purtroppo è molto presente e cosa ci dicono gli uccelli da questo punto di vista cosa ci possono dire gli uccelli sono sicuramente degli ottimi bioindicatori ci sanno dire come sta l'ambiente tutto attorno a loro e rispondono non solo potremmo dire non solo alle cose a cui siamo più sensibili noi umani come magari ci preoccupiamo della qualità dell'aria ma a cose molto più delicate la qualità dell'acqua ad esempio che è molto difficile monitorare e mantenere buona e lo stato di salute degli habitat se l'habitat è abbandonato da se stesso o subisce altre problematiche diciamo gli uccelli spariscono sicuramente è una cosa che stanno mancando nella nostra zona umida è proprio l'acqua gli ambienti stanno diventando sempre più secchi sono un po' abbandonati e gli uccelli più importanti diciamo stanno sparendo siamo in autunno quello che è sempre stata la stagione di caccia un tempo dal punto di vista delle specie quali sono i cambiamenti soprattutto in quell'area della nostra pincia c'è qualcosa di nuovo e qualcosa che non c'è più o ci sono dei movimenti sì sicuramente tutte queste zone umide sono di importanza strategica per i migratori che dal centro nord Europa vanno verso la Spagna verso il nord Africa dove si fermano a mangiare ci sono degli studi per anni si è studiato proprio anche in palude di Brivio adesso c'è uno studio di monitoraggio della migrazione autunnale al lago di Pusiano appena al margine in provincia di Comua appena al margine della nostra provincia e sappiamo che la qualità di quegli ambienti le bacche il grado di allagamento rappresentano un fattore importante per gli uccelli migratori quanto sono più sani questi ambienti tanto più gli uccelli migratori avranno possibilità di foraggiare i loro viaggi e sappiamo che anche gli uccelli che passano qui come quelli in tutta Europa stanno cambiando a causa del cambiamento climatico le loro rotte migratorie nel senso che a causa del riscaldamento invernale alcuni degli uccelli che prima andavano molto più a sud possono svernare più a nord e a causa del riscaldamento invece primaverile che è quello veramente molto forte la primavera arriva sempre prima gli uccelli che tornano dall'Africa in Europa stanno negli ultimi 25 anni arrivano sempre prima sempre più presto insomma ma vedremo ancora le rondini in provincia di Lecco anche se ce ne sono sempre di meno per essere così per un esempio che è pratico le rondini del parco Adda hanno subito un crollo di quasi il 90% negli ultimi 25 anni c'è uno studio dell'università Bicocca che testimonia molto bene questo decremento però le piccole popolazioni anche in ambiente semiurbano stanno recuperando in provincia di Lecco una per tutte quella del monastero del Lavello che speriamo venga tutelata nei prossimi anni sta crescendo ad esempio sarebbe bene che tutti i cittadini si facessero carico di proteggere i nidi di rondine e balestruccio nelle proprie case assolutamente nell'ambito del tuo progetto mi spiegavi prima stai anche applicando a una particolare specie di uccelli un sensore insomma sei in grado di tracciare esatto sì questo è un altro progetto molto particolare che sto facendo in collaborazione con l'Università di Milano e finanziato bisogna riconoscerlo da Federcaccia che ha deciso di investire dei soldi per mettere dei trasmettitori satellitari alla Cesena che è un tordo di interesse venatorio ne vengono abbattuti moltissimi in Lombardia e qui l'interesse comune delle federazioni cacciatori e di noi ricercatori diciamo era quello di avere dati di buona qualità di sapere cosa fanno questi animali quindi si applica questo piccolo zainetto del peso di pochi grammi 3-4 grammi sul dorso dell'animale e l'animale viene liberato e questo ci trasmette ogni 3-4 giorni la sua posizione nel corso dell'inverno e della primavera benissimo siamo al secondo anno di studio l'anno scorso abbiamo scoperto che alcuni degli animali marcati anche qui in provincia di Lecco sono arrivati fino alla Finlandia e al Mar Bianco sopra San Pietroburgo a nidificare benissimo ecco allargando un po' l'orizzonte nell'ambito della quella che è la promozione turistica nel nostro territorio dalle possibilità di crescita c'è un capitolo che riguarda quello che si chiama birdwatching ovvero la possibilità di avvistare gli uccelli che ridificano ecco dal punto di vista territoriale sulla dorsale dell'Ada quali sono i punti migliori e chi volesse avvicinarsi a questo cosa può fare moltissimo intanto in tutte le stagioni è possibile vedere uccelli da quasi tutti i punti di osservazione sul lago per quanto l'inverno sia la stagione in cui è più facile secondo me quindi un piccolo binocolo qualunque pontile o qualunque passeggiata sul lago possono vedere i gabbiani lo smergo maggiore e poi come punti molto particolari beh da nord a sud direi sicuramente il pian di Spagna che è uno dei posti migliori in Italia per vedere uccelli poi il lago di Sartirana che è questa piccola passeggiata molto accessibile e sicuramente il sito del Toffo che è casa nel comune di Calco c'è una garzaia una specie di condominio di aironi cenerini quindi chi va tra marzo e maggio può vedere questo spettacolo molto facilmente esiste anche un'associazione qualcuno a cui si può rivolgere certo il Cross Varenna che è legato al museo al museo Scanagatta di Varenna è l'associazione di bird watching che però anche promuove la ricerca il sabato 25 novembre inizia il censimento invernale degli uccelli che il Cross Varenna porta avanti da ormai 20 anni in provincia di Lecco ecco per concludere una considerazione ma nel corso degli anni si parla sempre di insomma di problemi legati appunto all'inquinamento la situazione sta migliorando oppure è una semplice così illusione cosa ci dicono so che è difficile per uno studioso chiedersi di la cosa più grave per gli uccelli diciamo per gli animali generali è il cambiamento dell'uso del suolo quello che noi definiamo così cioè il fatto che aree prima naturali vengono adesso coltivate in maniera intensiva o in altro modo l'inquinamento c'entra fino a un certo punto nel senso che è soprattutto l'inquinamento da pesticidi quello che ci preoccupa in qualche caso è migliorato perché le leggi rispetto a quello che permettevano negli anni 70 80 sono molto più restrittive quindi alcune popolazioni i uccelli hanno recuperato molte altre invece per l'espansione dell'urbanizzazione e la riduzione dei spazi naturali sta molto peggio indubbiamente benissimo io ringrazio Michelangelo Morganti della sua testimonianza teremo così in considerazione anche tutti i consigli per riscoprire sotto un'ottica diversa il nostro territorio grazie ancora della tua presenza io vi ricordo la possibilità di segnalarci notizie eventi iniziative viando una mail a redazione trattino alto leccochiocciolateleunica.com da Stefano Spiofficco non arrivederci alla prossima puntata di Settebrianza Alcab Polidiagnostico di Barzanò da ottobre finalmente attivo il nuovo reparto di radiologia salute prevenzione diagnosi cura con la nuova apertura di Merate raddoppia la presenza sul territorio Cab Barzanò via 4 novembre 26 e Cab Merate via Bergamo 60 per conoscere i nostri ambiti medici www.analisibarzano.it la tessitura dove il cibo e cultura vi aspettiamo a Merate in via collegio Manzoni 8F telefono 039 905 2264 stil casa gioielli e articoli da regalo nel centro storico di Merate il vostro punto di riferimento da oltre 40 anni farmacia San Francesco omeopatia fitoterapia e dermocosmesi a Merate in via statale 107 aperti anche la domenica mattina di riferimento Grazie a tutti.